Cosa ricordo in particolare di quella partita di tanti anni fa, oltre al fatto che era prima del mio compleanno, ho così tanti bei ricordi, ma direi il caldo infernale, prima del tie-back siamo andati in spogliatoio e mi sono dovuto coprire perché avevo freddo, il rumore frastuono che c'era in palazzetto mi hanno fischiato le orecchie penso per tre giorni, e direi sicuramente la rimonta sotto 2-0 e vincere 3-2 è stato qualcosa di irripetibile, una cosa stupenda che mi fa sorridere ancora oggi, una cavalcata in crescendo meravigliosa con un pubblico come al solito eccezionale, e mi saluto così, ciao vivo!